Buongiorno a tutti, oggi preparo biscottini con nocciole e cioccolata. Mi occorre 500 g di farina, 200 g di nocciole tostate, 25 ml di cuore alle nocciole, 100 g di cioccolata a piacere, un pizzico di sale, 200 g di zucchero, un po' di vaniglia, un limone grattugiato, 150 g di burro, una bustina di lievito per dolci e 3 uova. Inizio la preparazione, metto un pizzico di sale, metto lo zucchero, le bucce del limone grattugiato, metto il lievito. Metto le nocciole intere. La cioccolata. Io ho messo la cioccolata al latte, si può mettere fondente, come si vuole. A questo punto metto le uova. Sbatto un po' le uova. Adesso li verso. Metto la vaniglia. Il liquore alle nocciole che prossimamente farò. E il burro ammorbidito. Ora mischio tutto. Ora vi aiuto con le mani. A presto. Grazie a tutti. Ora passo sul tagliere e vado a fare dei bastoncelli. E li taglio circa 5-6 cm di lunghezza. Ora mettere un pollo. messo una piaccia un po' i Ora li vado ad infornare in forno caldo e statico a 180 fino a cottura e poi procedo fino all'esaurimento dell'impasto. Grazie per la visione! E' pronta l'altra teglia in forno anche questa. Dopo 25 minuti eccoli pronti. Pronti da gustare, friabili e croccanti. Grazie della visione, alla prossima! Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.